Quasi 6.000 migranti sono stati soccorsi in 48 ore nel canale di Sicilia da mezzi della Marina Italiana, che hanno anche recuperato i corpi di 10 vittime. Ultimi in ordine di tempo gli arrivi di Pozzallo e Reggio Calabria. A Pozzallo sono atterrate 870 persone, tra cui anche una neonata di tre giorni. A Reggio Calabria, dalla Bersagliere, sono sbarcati in 779. Quasi tutte le imbarcazioni di fortuna, cariche di migranti partono dalle coste della Libia. Qui la Guardia Costiera ha intercettato un gruppo di oltre 500 migranti a 60 chilometri da Tripoli e li ha riportati indietro a Misurata. Partiti dalla Somalia, dall'Eritrea e dal Sudan, tutti verranno trasferiti in campi di detenzione nel deserto, dove rischiano di restare imprigionati a lungo. È stato un viaggio difficile, abbiamo rischiato la vita dal Sudan ad Ajaabia e poi da lì fino a Tripoli. A ogni passo di questo cammino puoi perdere la vita. Stiamo soffrendo, non lo vedi, guardaci, rischiamo le nostre vite. Come possiamo essere contenti di questo? Stiamo soffrendo, stiamo soffrendo e la gente deve conoscere il nostro dolore. Intanto il premier australiano Abbott, che ha concluso un contestatissimo accordo con la Cambogia per deportare sistematicamente i migranti che arrivano sulle sue coste, rivela l'esistenza di contatti sul tema con l'Unione Europea.